Grazie e benvenuti a questo nuovo video, sono Giorgio e oggi sono a Las Vegas Questo è il cartello famoso, ma faccio un po' da distante così perché c'è la fila per fare la coda Non ho mai visto una cosa del genere, c'è la fila per fare la coda, per una foto Adesso è un gruppo, la saltiamo qui Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi a Giorgio Santoretto Poi andrò ad altri video di Las Vegas e anche al Grand Canyon prossimamente E ci vediamo al prossimo video, bella ragazza